La Villa Agrigentina e l'Associazione a Difesa dei Consumatori, ADOC, intervengono sulla condizione di stallo tra Ato Idrico e Assemblea Territoriale Idrica. Gero Miciche. Nella Grigentino ricorre un'anomala condizione nell'ambito della gestione del servizio idrico. L'Ato Idrico è in avanzata fase di liquidazione e l'Ati, l'Assemblea Territoriale Idrica, che è subentrata al lato, non ha ancora assunto funzioni. E pertanto non sono esercitate le attività di controllo e di orientamento dei sindaci, che sono parte dell'Ati sulla gestione privata del servizio idrico e fognario. Ciò è rilevato e lanciato all'attenzione pubblica dalla Villa Agrigentina tramite il segretario provinciale Gero Acquisto e dal presidente provinciale dell'Associazione a Difesa dei Consumatori, ADOC, Livio Suterasardo. Will e ADOC si sono rivolti ai sindaci della provincia Agrigentina e al presidente dell'Atica e al sindaco di Menfi, Vincenzo Lotà, e hanno chiesto se è avvenuto il passaggio delle consegne tra lato idrico e l'Ati. E poi spiegano, di fatto il sistema è bloccato e ci si trova da mesi in una situazione cristallizzata perché lato idrico, ex organo di controllo del gestore idrico Girgenti Acque, è attualmente in liquidazione, mentre l'Ati si è costituito ma non ha ancora acquisito le funzioni di controllo. Ad oggi, sottolineano Acquisto e Suterasardo, c'è un vuoto di potere nel controllo del gestore idrico, che si diverbera negativamente soprattutto sul cittadino costretto a pagare bollette ancora troppo alte. Per tutto ciò, ecco l'auspicio della Will e dell'ADOC, si chiede un senso di responsabilità al presidente dell'Assemblea territoriale idrica Lotà e ai sindaci affinché si assumano tutte le iniziative utili per l'applicazione della legge di riforma del servizio idrico in Sicilia, la numero 19 del 2015, valutando tra l'altro l'opzione della restituzione al pubblico della gestione del servizio idrico, concludono Acquisto e Suterasardo, i quali inoltre ricordano che nell'incontro del 29 settembre scorso tra l'Ati, i sindacati e le associazioni dei consumatori, lo stesso presidente Lotà e i componenti del direttivo dell'Ati hanno garantito verbalmente un impegno concreto per riportare l'acqua a una gestione diretta e pubblica. Grazie.